Questa velocità è lenta? Sì. Perfetto. Allora, partendo quindi dalla nostra posizione di guardia, effettiamo un attacco, noi per primi, con un jab e un cross. Quindi avanzo, jab, avanzo, cross. A questo punto dobbiamo proteggersi dal suo attacco, dal suo contraattacco. Chiudendo la nostra testa, che è la parte più importante, andiamo a proteggere la nostra testa. Quindi il suo pugno si infrange contro il mio braccio. A questo punto ho la possibilità di chiudere la distanza e andare in clincio sul suo braccio. Contestualmente colpire la sua testa, che è la parte più sensibile. A questo punto, continuando la tecnica, senza interromperla, effetto un colpo a martello, hammer. Vado a tramortire ancora il mio avversario. A questo punto non mi resta che colpire la parte inferiore. Sicuramente il nostro avversario non sarà più in piedi dopo tutti questi colpi e noi abbiamo la possibilità di scappare. Vediamola velocemente. Grazie per le tue tecniche di Krav Maga. Grazie a voi.